L'assenza di precipitazioni per tutto il mese di marzo, la media mensile sarebbe di 77 mm ma per ora siamo a zero e le previsioni per i prossimi giorni danno asciutto almeno fino a Pasqua, sta facendo salire la preoccupazione degli agricoltori, mitigata dalle riserve che le abbondanti nevicati invernali hanno contribuito ad alimentare. Il primo trimestre del 2021 chiude quindi con 140 mm di pioggia rispetto a una media degli anni scorsi di 220. Ma non è soltanto una questione di acqua perché c'è anche il caldo sopra le righe, ieri le medie erano attorno ai 24 gradi, ad impensierire. Il caldo fuori stagione assieme alla penuria di precipitazioni sta mandando in secca al Po già ai livelli idrometrici della scorsa estate quando invece le coltivazioni hanno bisogno di acqua per crescere. È l'allarme lanciato da Coldiretti. A Piacenza il grande fiume è a meno 0,16 metri quindi sotto lo zero idrometrico ma il ponte della Becca nel Pavese è già a meno 2,66 metri, praticamente lo stesso registrato all'inizio di agosto del 2020. Con i livelli cala anche la portata scesa per la prima volta quest'anno sotto la soglia dei 1000 metri cubi al secondo con un meno 24% rispetto alla media del periodo. Situazione idrica di profondo rosso anche per i fiumi dell'Emilia Romagna, tutti abbondantemente sotto la media mensile, spiega Coldiretti, e nel Piacentino sono partite le irrigazioni di soccorso su cipolle, mais e frumento. L'aumento degli eventi climatici estremi, continua Coldiretti, con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal maltempo alla siccità ha modificato soprattutto la distribuzione sia stagionale che geografica delle precipitazioni. Per esparmiare acqua e aumentare la capacità di irrigazione Coldiretti ha elaborato un progetto che prevede la realizzazione di una rete di piccoli invasi con basso impatto ambientale che consente di risparmiare il 30% di acqua per irrigazione, diminuire il rischio di alluvioni e frane, garantire la disponibilità idrica in caso di incendi e di adeguati stoccaggi per le produzioni idroelettriche green.